Musica Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. E allora subito gli argomenti che tratteremo all'interno di questa puntata. Il punto sui vaccini anti-covid. Scorie nucleari no del Consiglio regionale della Toscana. Approvata all'unanimità una mozione per mantenere gli uffici postali nelle aree marginali. Ristori per i comuni montani in situazione di emergenza. Devo dire io sono orgoglioso, orgoglioso del nostro personale medico, orgoglioso di come l'assessorato ha intrapreso questo percorso e non era semplice. Più di 50.000 vaccinati, soprattutto i medici di prima linea, il personale dell'RSA, gli ospiti dell'RSA. Abbiamo deciso di partire dalle persone più fragili, da quelle più in difficoltà. Però vogliamo continuare in questa direzione e non appena, oggi ne sono arrivate più di altre 30.000, non appena ci sarà la possibilità vorremmo vaccinare anche tutti gli operatori sanitari che non sono rientrati in questa fase, i liberi professionisti, tutti coloro i quali hanno contatti con pazienti. Noi riteniamo che questo della vaccinazione sia il modo, insieme alla responsabilità, per uscire da questa difficile pandemia che stiamo vivendo. All'assessore oggi ho chiesto una cosa, di dare la possibilità a tutti di potersi vaccinare rapidamente, non appena arriveranno i vaccini, ulteriori dosi, di organizzare una presenza capillare sul territorio nei prossimi mesi, quando avremo le disponibilità in numeri tali da permettere di vaccinare tutti, non facendo differenze tra chi vive in un grande centro e chi vive in un piccolo centro. Credo che questa sia la forza della Toscana, una Toscana diffusa che vuole offrire a tutti le stesse opportunità. Rimanendo in tema di vaccini, il presidente della regione toscana Eugenio Gianni ha evidenziato la proposta già formulata a Roma di inserire gli insegnanti tra i livelli di priorità nel ricevere il vaccino anti-covid. Ho già formulato questa proposta a Roma considerandoli prioritari, perché per lo sforzo che noi abbiamo fatto di riportare le scuole secondarie e superiori e che ci sta dando anche eco sui media e quindi nella coscienza pubblica a livello nazionale è importante che gli insegnanti si sentano più rassicurati. In primo luogo gli insegnanti di sostegno, perché hanno rapporto con persone più fragili, ma complessivamente tutti gli insegnanti, a mio giudizio, devono entrare nella categoria di coloro che, superata la prima fase, quella dei circa 120.000 vaccini in Toscana che riguarda gli operatori sanitari e gli anziani dell'RSA, secondo me ci devono essere loro. Il Consiglio regionale della Toscana dà un segnale forte, ha detto no alle score radioattive e nucleari in Toscana, l'ha detto in maniera unanime, in maniera forte, l'ha detto in maniera unitaria. Questo per noi è stato una conquista importante. Io per primo ho depositato una mozione, la 97, nel giorno di martedì. Siamo stato il primo partito a depositare, a dire no con forza, nelle ore successive la costruzione di un consenso diffuso con tutte le forze politiche. Poi siamo arrivati all'unanimità in Consiglio regionale per dire no in Toscana, a Trequanda, a Pienza, a Campagnatico, in Toscana. Toscana vive di un territorio straordinario, vive del proprio ambiente, della natura, del turismo, dell'accoglienza di tante persone, dell'attrattività, della bellezza del proprio territorio. Con forza il Consiglio regionale della Toscana ha dato mandato al proprio governatore Eugenio Gianni di rappresentarci per dire che la Toscana non accetterà mai il deposito nazionale di scorie radiattive e nucleari. Per me, personalmente, una vittoria importante per essere stato il primo a denunciare tutto questo e ringrazio tutte le forze politiche che hanno voluto condividere un atto unitario approvato dal Consiglio regionale. È un segnale forte, di netta contrarietà. Noi comprendiamo che quello sia un problema che va risolto, ma non si può risolvere andando a compromettere, andando ad intaccare uno dei posti che sono più belli dal punto di vista paesaggistico, storico-naturalistico, ambientale. Quindi con delle penalizzazioni che ne deriverebbero anche dal punto di vista turistico e dal punto di vista economico. La Val d'Orcia, il Comune di Campagnatico, Pienza, Treguanda sono veramente delle perle della Toscana, dell'Italia e del mondo. Hanno un valore che è riconosciuto dall'UNESCO. Pensiamo alla Val d'Orcia. Hanno veramente un paesaggio ed un valore storico-culturale enorme. Quindi noi pensiamo che questa previsione vada contrastata e il Consiglio impegna la Giunta, che tra l'altro attraverso il Presidente si è già espressa mostrando contrarietà, a mettere in atto tutte le azioni per poter contrastare il concretizzarsi di questa previsione. E anche a mettere a disposizione dei comuni, che sono piccoli comuni, tutti quei supporti di carattere tecnico-giuridico che dovessero essere necessari per meglio sostanziare questa posizione di contrarietà, che ripeto non è una contrarietà che proviene dalla sindrome di NIMBY, ma è una contrarietà che trova motivazione nel valore di un territorio che è quello toscano che per prima, cioè la regione toscana, si è dotata di un piano paesaggistico. Avevamo presentato una mozione noi, ma l'avevano presentata anche altri gruppi consigliari, quindi abbiamo deciso di fare un testo condiviso per esprimere la nostra contrarietà e anche per dare supporto ai comuni che purtroppo sono stati individuati come sedi per poter evitare l'arrivo di queste scorie. Il Consiglio regionale si esprime in maniera univoca e quindi pensiamo che ora stia il Presidente Gianni andare giù con la voce di tutto il Consiglio regionale ad esprimere una contrarietà che sia forte, decisa e netta, perché i nostri territori, soprattutto quelli in oggetto vanno valorizzati, vanno supportati e non hanno assolutamente bisogno di vedersi sopraffare da decisioni prese a Roma e mai concordate o concertate con i territori stessi. Credo che a questo punto ci mancano solo gli UFO, poi quest'anno abbiamo visto tutto perché insomma dalla pandemia alle scorie nucleari, lo diceva un po' anche l'assessore Monni in Commissione stamani, ci siamo trovati ad affrontare delle cose veramente fuori dall'ordinario. Io ritengo che la Toscana non sia proprio morfologicamente adatta ad ospitare un sito di deposito nazionale per le scorie nucleari, soprattutto addirittura in quei luoghi che vengono identificati dalla carta NAFI, perché sono luoghi non solo vicinissimi a siti dichiarati patrimonio mondiale dell'umanità da UNESCO, ma hanno anche una vocazione turistica e agroalimentare di pregio. Andare a costruire un deposito di scorie nucleari vorrebbe dire ammazzare qualunque possibilità di ripresa economica e di rilancio delle attività di quelle zone, fermo restando appunto poi la pericolosità. Capisco che il Governo si sia trovato a una decisione importante per evitare le infrazioni della Comunità Europea, però mi domando perché non sono state interpellate, se non lo sono state, perché ancora non lo so, le regioni e soprattutto perché fra i vari parametri analizzati per definire quei siti di stoccaggio non sono state prese anche altre considerazioni come per esempio il pregio naturalistico e paesaggistico delle zone individuate. Questa è una cosa fondamentale per quanto mi riguarda e mi fa molto piacere che tutto il Consiglio regionale all'unanimità abbia approvato una mozione che dà sostegno al Presidente Gianni nel suo diniego all'autorizzazione. Diciamo che la notizia è che ancora una volta la regione toscana si attiverà nei confronti di poste italiane SPA perché non accettiamo i disagi che vengono da quel piano di riorganizzazione dell'azienda che di fatto contrasta con la natura stessa del servizio postale che è un servizio pubblico ed universale. Troppi cittadini in questi anni veramente sono stati penalizzati da un piano che va a colpire in particolare le aree marginali, le aree periferiche, i piccoli centri, i centri montani. Ecco, noi vorremmo una toscana che veramente fosse tutta veramente in condizione di offrire servizi adeguati ai propri cittadini, in particolare servizi postali che sono così importanti. Quindi ancora una volta la regione toscana si attiverà nei confronti di poste italiane SPA, però lasciatemi dire veramente questo, che occorrono fatti. I cittadini delle parole dei politici sono abbastanza stanchi. In questi anni ho presentato più mozioni sul tema della consegna giorni alterni. Cosa è stato poi fatto? Basta con queste logiche solo di profitto da parte delle aziende. nostri cittadini, in particolare gli anziani, devono essere tutelati e occorrono appunto fatti, occorre che la politica possa davvero cambiare le cose. Cambiamo adesso argomento. Recentemente gli operatori della montagna toscana hanno lanciato un appello nei confronti della regione per il progetto di rilancio dell'intero sistema. Sentiamo come il presidente Gianni è intervenuto su questo tema. Io voglio incontrarli e capire come la sinergia tra pubblico e privato può creare una valorizzazione di quel sistema della montagna che indubbiamente in quell'area ha tratti di specificità che vedono gli elementi di ricchezza che il territorio può offrire. Ha una dimensione di promozione turistica, dal turismo slow che ci porta alle vie che attraverso i cammini possono essere valorizzate, allo sci perché non dimentichiamo che la montagna pistoiese attraverso le stazioni della betone e di ciò che c'è intorno costituisce un territorio, un distretto di interesse di livello nazionale. Ci sono anche dei finanziamenti che possono collegare quello che è la montagna toscana con quello che è la montagna emiliana, quindi avrò opportunità di un confronto che consenta di sviluppare progetti e di arricchire la proposta di servizi che attraverso la regione possono arrivare dall'amministrazione pubblica. E continuiamo ad interessarci di montagna, in particolare delle montagne che riguardano il territorio pistoiese e della situazione di grave emergenza dovuta alle copiose nevicate che hanno interessato la zona, riguardante le infrastrutture viarie e l'approvvigionamento di energia elettrica. Sentiamo gli interventi dei consiglieri di Fratelli d'Italia, Diego Petrucci e Alessandro Capecchi. Intanto approfitto per fare chiarezza su un punto, la neve in montagna fa danni quando non cade, quindi non è la neve che fa danni. Quello che ha causato danni e che ha causato le criticità sono stati le migliaia di alberi che sono caduti per il peso della neve, per due motivi. Uno perché non nevicando da molto tempo gli alberi non erano caduti negli anni precedenti, se rinnevicasse fra un mese quelli che sono caduti ora non cadrebbero evidentemente. Due perché non viene fatta la manutenzione necessaria, in particolar modo a bordo delle strade e sotto gli elettrodotti. Quindi le criticità si sono avute perché le strade sono state istruite da centinaia e migliaia di piante cadute e perché sulle linee elettriche sono cadute piante che hanno interrutto l'elettricità. Adesso in queste ore ci sono ancora delle frazioni che hanno difficoltà da un punto di vista di approvvigionamento elettrico, il che non è tanto una cosa grave perché non si può accendere l'interruttore della luce, quanto perché non funzionano gli impianti di riscaldamento che siano in un modo o nell'altro perché vanno comunque ad elettricità. Su questo è necessario fare una programmazione di medio termine, ma è necessario anche intervenire nei confronti delle società preposte che sono appunto Enel e che sono Terna per poter fare la manutenzione ordinaria. Noi abbiamo sollecitato subito l'intervento della Regione, naturalmente coordinandosi anche con l'amministrazione comunale che ha cercato di far fronte a una situazione realmente eccezionale. Gianni da giorni ha annunciato la dichiarazione dello Stato di emergenza e però al momento non ci risulta essere stata dichiarata perché questo consentirebbe per la verità di ricorrere anche a misure eccezionali. Peraltro le associazioni di categoria in questi giorni hanno chiesto giustamente una legge speciale per la montagna che consenta di affrontare anche in termini strutturali e non solo emergenziali i problemi che ci sono e in particolar modo la grave crisi economica. Quest'anno è paradossale purtroppo la situazione, c'è tanta neve, non si può sciare, gli impianti sono chiusi, rimarranno chiusi per il momento fino al 18 gennaio e quindi noi chiediamo con questa mozione risorse specifiche e siamo d'accordo nell'aprire un tavolo di confronto immediato e una legge speciale per la montagna perché occorre fare sistema. Questa era la nostra ultima intervista, termina qui dunque l'appuntamento di questa settimana con cronache e commenti. Grazie a tutti.